Situazione drammatica, situazione drammatica purtroppo, drammatica e niente, purtroppo l'evento atmosferico ha compromesso l'annata. Questa zona qua direi che siamo sì oltre il 90% dell'anno. È un quadro desolante quello che si apre su uno degli scorci più belli della marca nel cuore delle colline unesco. Dalla chiesa parrocchiale di Colbertaldo di Vidora si vedono solo vigneti spogli, l'uva non caduta sta già marcendo, a tratti sembra autunno inoltrato. Questa grandinata in questo periodo sicuramente comprometterà la produzione anche del prossimo anno, perché i tralci sono stati gravemente danneggiati e quindi tutte le gemme, tutti i capi che dovevano essere posti a frutto il prossimo anno non sarà possibile, cioè sarà possibile metterli ma la produzione sicuramente sarà bassa, insomma. Sia in campagna avrà portato via il 90%, in collina si conta il 100%. Non siamo assicurati, non siamo assicurati noi. E ora tutte le spese a carico nostro. Stesso copione più a sud, zona Mosnigo di Moriago. 100% qua, perso tutto qua. Lei adesso ha chiamato le assicurazioni, come procede? È che non siamo assicurati, perché siamo andati bene, purtroppo, però quest'anno... Quindi voi non siete assicurati? No, no, no. Per fortuna qualche altro appezzamento qua vicino è restato qualcosa, però qua... Bel danno allora. Eh beh, parecchio. A nulla stavolta sono osserviti i cannoni antigrandine. Da anni in funzione, solo nel territorio di Vidoro sono tre. Una tecnologia, dice il sindaco, che va rafforzata. Certo, di fronte ad eventi così estremi c'è poco da fare. Basta guardare al cipresso secolare della Pieve o agli ulivi sradicati per non parlare del boom di richieste e di nuove coperture in comune. I cittadini hanno paura e vogliono cautelarsi. Da parte nostra c'è tutta la collaborazione possibile da fare. Abbiamo già attivato anche... raccogliamo anche le richieste di eventualmente eventuali risalcimenti. Speriamo che ci siano le possibilità o dalla Regione o dallo Stato di avere dei contributi, visto che questa si tratta di una vera e propria calamità. Grazie mille. 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 Grazie a tutti